Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 non facciamo singolo dire spieghiamo il nostro piano di gioco via al piede perché comunque si finirà la stranchezza e non possiamo parte dalla partita di ciclo di ciclo di ciclo da noi via al piede non facciamo la sede e poi dobbiamo fare un contrattacco e Giuseppe parte dietro e lì diamo tutto bravi per favore ditelo a fine partita adesso non vale un caso a tre eh uno due cecco occhio che tante volte te lo torno fermati là quando hai in aria non fuori no? bravo tre via bravo però guardiamo non la lì al lì al lì al lì la lì al lì al lì Vieni! 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 Mi caccio fai! Ma va a tagare! No! Ammonito? Ammonito! Dai Tobi! Dai Tobi! Sono le regole! Dai Tobi! Sono le regole! Eh son cagato! Lo so! ... Vieni! Un tre! Un tre! Vieni a giocare, guarda! Vieni! Noo! Com'è? Vieni! Paolo, 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 Paolo! 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 Paolo, lascia, Paolo, stiamo vincendo! Paolo! Oh Paolo! Dilo che stiamo vincendo! Noi, noi, noi. Noi, no, no, calma, calma. Non sfida l'interno, non sfida l'interno. Ma no? Sì. Vai a far messa. Zitto, zitto, togli. Vai a far messa, vai a far la messa. Vai a far la messa. Viscia, 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 viscia. Ancora, gioca ancora, gioca ancora. Ancora l'interno! Ancora l'interno! Ancora l'interno! Vitt! 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 1, 2, 1, 2, va al collo, va al collo. 1, 2, 1, 2. Dai Paolo che ce l'hai lì. Ce l'ha Paolo, ce l'ha Paolo. Quei che basso. Bene Union. Bravo. A Union. Bravo, Paolino! Radrizza, radrizza! Guardami, guardami! Bravo, Marco! Viyala, Viyala, Viyala! Viyala, Viyala! Gadis Viyala! Milano! Negri! Ambella!